Buongiorno a tutti, sono Francesca Diliberti, dirigente scolastico del Liceo Regina Margherita di Torino. Buongiorno a tutti, sono Fiorella Gaddo, sono la dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Giulio di Torino. Parliamo di MindGap, questo importante progetto al quale hanno partecipato diversi studenti del nostro istituto insieme a studenti del Liceo Regina Margherita di Torino. Siamo un indirizzo liceale, quindi siamo onorati di avere una collaborazione e di aver partecipato a questo progetto MindGap che ha dato l'opportunità ai nostri ragazzi di mettersi veramente in gioco. Questo progetto è stato interessantissimo, intanto ha dato l'opportunità ai ragazzi di lavorare in team ed è una competenza assolutamente importante nel mondo del lavoro, di mettere insieme le competenze e le creatività dei nostri ragazzi per sviluppare delle idee di azienda. Si pensa sempre che le competenze imprenditoriali siano distanti da un apprendimento liceale, invece non è assolutamente così. Abbiamo visto oggi che i nostri ragazzi si sono messi veramente davvero in gioco insieme a ragazzi di altri istituti per dar prova di aver acquisito durante il loro percorso anche competenze che sono assolutamente necessarie sia nel mondo degli studi che nel mondo del lavoro. Ribadisco l'importanza di questi percorsi all'interno proprio del curriculum per aggiornare non solo la nostra progettualità ma anche per potenziare le competenze dei nostri docenti. Di lavorare in rete anche con ragazzi di altri istituti e quindi ha messo in gioco e ha fatto che sì che i ragazzi mettessero in gioco sulle idee, sulle necessità, sull'analisi dei bisogni futuri e ha sviluppato senza dubbio le capacità di lavorare in team, competenza che è assolutamente necessaria nel mondo del lavoro ma anche nel mondo dello studio. Attraverso i progetti proprio coprogettati insieme al territorio la scuola riesce veramente a dare una dimensione da protagonisti agli studenti che è quello che ci preme di più. Rendere i nostri studenti protagonisti del loro processo di apprendimento e al contempo dare significatività ai curricoli che spesso e volentieri risultano soprattutto nei percorsi liceali un po' avulsi e staccati dal mondo del lavoro. Quindi siamo assolutamente contenti e speriamo di essere ancora coinvolti in questo tipo di iniziative. Ringrazio tutti. Grazie. Il progetto Marconi è un'agenzia formativa. Dal 2012 è un'agenzia formativa. Da agenzia formativa più agenzia per il lavoro cerchiamo di affrontare il tema della disoccupazione in maniera più più pronta. Mind the Gap, il progetto per studenti delle scuole che abbiamo scritto, che abbiamo avuto il piacere di gestire insieme alla Camera dei Commerci di Torino, si rivolge a studenti, a ragazzi delle scuole, quindi a coloro che subito dopo la scuola dovranno fare delle scelte. Cerchiamo di affrontare il tema della disoccupazione creando delle opportunità formative in grado di rispondere alle esigenze delle persone e anche progetti innovativi in grado di portare non solo competenze, ma anche a volte un mindset diverso nell'affrontare le insidie del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro che oggi è sempre più competitivo ed è sempre più in mutazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.